E qua vogliamo giocare al giochino di Indovina Chi, che probabilmente tutti conosciamo, quello in cui ci sono una serie di personaggi che hanno caratteristiche diverse e con una serie di domande, la cui risposta deve essere sì o no, sulle caratteristiche di questi personaggi un giocatore deve indovinare qual è il personaggio segreto dell'altro, dell'altro giocatore. Allora, in questo caso ci dice che abbiamo 24 personaggi e ogni personaggio ha dei tratti distintivi che sono il sesso, la lunghezza dei capelli, il colore dei capelli, gli occhiali, può averli o no, il cappello può averlo o no, baffi, barba oppure calvizie e questi personaggi sono codificati in un file fatto in questo modo. Quindi questo è un file di testo con un personaggio per riga, campi separati da punte virgola, prima riga contiene la descrizione dei campi e la prima colonna contiene il nome del personaggio e le altre contengono le varie caratteristiche, sesso può essere uomo o donna, colore può essere nero, biondo, castano, rosso, capelli possono essere corti o lunghi, non mi sembra che ci siano altri valori e poi ho una serie di sì no che corrispondono ad avere gli occhiali, avere il cappello, avere i baffi, avere la barba oppure essere pelato, che è un termine un po' offensivo per dire calvo. Poi ovviamente questo file qua è un po' assurdo perché mi dice che nel caso di Richard lui ha i capelli corti ma è anche pelato, che non può esistere, ma fa lo stesso, è un file di esempio, non abbiamo diciamo così verificato troppo. Allora questo qua è l'elenco dei 24, vedete che ha 25 righe questo file, sono 24 personaggi tra i quali dobbiamo indovinare. Allora cosa deve fare il programma? Il programma da realizzare prevede di svolgere una partita semplificata nel quale si suppone che il giocatore vinca se dopo aver filtrato i personaggi con una serie di domande è rimasto un solo personaggio. Quindi un giocatore fa una serie di domande, alla fine ad ogni domanda l'elenco dei personaggi possibili chiaramente si riduce perché devo cancellare quelli che non corrispondono alla descrizione e alla fine delle domande posso avere una sola persona e allora ho vinto, posso avere ancora due, tre, quattro persone e allora non ho vinto, ho perso. Per assoluto potrei anche non avere più nessuno, perché ho fatto delle domande sbagliate eventualmente e quindi anche qui ho perso. Vinco solamente se dopo le domande che ho fatto rimane esattamente un personaggio. Il programma dovrà leggere le caratteristiche dei personaggi dal file personaggi.txt e poi leggere le domande dall'utente da un secondo file, ad esempio domande1.txt. Il file delle domande contiene una per riga le domande poste dall'utente, nel formato nome caratteristica uguale valore caratteristica. Vediamo l'esempio di domande1.txt, questo giocatore fa una domanda colore capelli uguale biondo, una seconda domanda lunghezza capelli uguale corti, terza domanda occhiali uguale sì. Ovviamente lo colore capelli corrisponde a questo nome, lunghezza capelli corrisponde al nome di questa colonna, ok? Deve essere una corrispondenza tra i nomi della colonna e il nome della proprietà che sto verificando. E ovviamente il valore che do sì, no, oppure corti, lunghi, eccetera, deve essere un valore sensato per quella colonna, vabbè. Allora cosa fa poi il programma? Stampa video tutti i personaggi presenti, vabbè, mi stampa tutti i personaggi. Poi a seguito di ogni domanda, quindi elabora le domande del file una per volta, a seguito di ciascuna domanda stampa i personaggi che corrispondono quella caratteristica e a tutte le precedenti. Ok? Se la prima domanda è colore capelli uguale biondo, lui mi stamperà solamente quelli biondi. Poi dopo la seconda domanda, lunghezza capelli corti, mi deve stampare tutti quelli che sono biondi con i capelli corti. Quindi via via l'elenco che viene stampato si assottiglia sempre di più, perché ogni volta devo applicare tutte le condizioni precedenti, una sull'altra. Stampare video è il risultato finale. Se alla fine delle domande sarà rimasto un solo personaggio, il giocatore ha vinto, altrimenti ha perso. E qui c'è un esempio di partita in cui all'inizio stampa l'elenco di tutti i personaggi, e poi comincia ad elaborare il file domande 1, in cui dice domanda 1, colore capelli biondo, e quindi ho sollezionato questi personaggi qua, che sono tutti quelli dell'elenco precedente in cui il colore capelli appunto è biondo. Poi i capelli corti mi dà questo elenco, che sono tutti quelli dell'elenco che sono sia biondi che con capelli corti, o in altre parole quelli dell'elenco precedente che abbiano anche i capelli corti. E così via. Occhiali vero, qui adesso questo true non mi piace tanto, perché qui c'è scritto sì, e nei personaggi c'è scritto sì, quindi il testo è sbagliato, no? Qui non dovrebbe essere scritto true, ma dovrebbe essere scritto sì. E così via. Dopo la terza domanda è rimasto solamente Joe e quindi in questo caso questo giocatore ha vinto, ha vinto la partita. Il file domande conteneva tre domande e ha vinto. Nell'altro esempio domande 2, la partita si svolge nello stesso modo, ma dopo la terza domanda sono rimasti quattro candidati, personaggi candidati e quindi la partita è persa. E quindi mi dice hai perso. Ok? Allora, qui dobbiamo, partiamo dall'ordinamento sulle strutture dati, riflettiamo un po' sulle strutture dati, poi facciamo intervallo e lo risolviamo. Dobbiamo memorizzare due tipi di informazioni di base, di partenza, che sono l'elenco dei personaggi e questo mi sembra che si presti molto bene a essere rappresentato come una lista di dizionari. Tanto più che i nomi delle colonne, che poi a questo punto diventeranno le chiave del dizionario, le ritrovo anche negli altri file e anzi saranno proprio la chiave attraverso cui andrò a fare i confronti. Quindi io questo lo leggerei come appunto normalmente una lista di dizionari, uno per riga, facendo attenzione che la chiave chiusa per i dizionari sia esattamente il nome della colonna corrispondente. E quest'altro file, posso, dai io potrei immaginarmi tre cose, o quattro, per rappresentare queste informazioni. La prima ipotesi potrebbe essere che non mi serve memorizzare queste informazioni, nel senso che magari non mi serve averle tutte insieme. Posso aprire il file, leggere la prima riga e fare la mossa, diciamo così, della prima riga, poi leggo la seconda riga, faccio la mossa della seconda riga e la prima me la dimentico, non mi serve più, forse. Quindi posso elaborare questo file man mano che lo leggo e non mi serve una struttura dati apposta per le mosse del giocatore. Questa è una possibilità. Oppure un'altra possibilità è quella di memorizzare questo file, diciamo le informazioni di questo file dentro un dizionario. Chiave, valore, chiave, valore, chiave, valore. Forse è anche naturale. Sfruttando il fatto che quando inserisco questi dati in un dizionario saranno poi navigabili, estraibili in ordine di inserimento. Perché l'ordine qua è importante, perché la prima mossa va fatta per prima, la seconda va fatta per seconda e così via. La terza possibilità, però non la suggerirei, è quella di mettere in una lista. Una lista di tuple o di dizionari, però non ci vedo vantaggi rispetto alle altre. Quindi se decidiamo di memorizzare questo per non avere il file aperto e poi tirare sul file mentre faccio altre cose, la cosa più semplice potrebbe avere un dizionario e essere un dizionario con le domande e le risposte. Perché in questo caso ho solamente due campi per riga e uno è proprio la chiave e per fortuna i dizionari mantengono l'ordine di inserimento. Se il dizionario non mantenesse l'ordine di inserimento, così come non faceva nelle versioni vecchie di Python, non sarebbe un buon modo di memorizzare questi dati. Perché poi a parte in qualche modo dovrei ricordarmi l'ordine, quindi vado solo a complicarmi le cose. A quel punto uso una lista che di per sé è la struttura di dati ordinata per eccellenza. Ok. Allora proviamo a magari solamente scriverci queste cose per non dimenticarcele. Quindi immaginiamoci di avere quindi due strutture dati, quindi i dati dei personaggi sono memorizzati in una lista di dizionari. Ci saranno 24 elementi della lista. Ciascun dizionario avrà i campi, le chiavi corrispondenti alle colonne del file personaggi. Quindi ad esempio avremo qualcosa del tipo, il primo personaggio sarà nome uguale a Alex, sesso uguale a uomo, nome con l'enne maiuscola, chiuse virgolette, due punti, aperte virgolette Alex, chiuse virgolette, virgola, sesso, la chiave è una stringa, valore uomo e così via. E poi ci sono altri dizionari, uno per ogni giocatore, per ogni personaggio è meglio indovinare. I valori dei dizionari, le chiavi sono stringhe, di tipo stringa e i valori dei dizionari sono tutte stringhe. Ok? Un dizionario che mappa stringhe su stringa. Anche il sì e no non ci perdiamo il tempo a convertirlo in booleano. Mentre invece per quanto riguarda gli altri dati, quindi i dati delle mosse del giocatore, saranno memorizzati in un dict, in un dizionario che ha come chiave l'attributo del personaggio come stringa e come valore, il valore selezionato, valore specificato dall'utente, sempre questo stringa. La chiave dovrà coincidere con le chiavi, con una chiave del dizionario dei personaggi. Se no c'è qualcosa che non va. Ti sto dicendo altezza uguale, non va bene come proprietà perché non è un'informazione che ho. Qui normalmente non dovrebbe succedere, però quando scriviamo il codice non lo possiamo sapere, quindi ricordiamoci che sarà un controllo che magari dovremmo fare. Magari ci viene gratis, la pensiamolo sempre. Ecco poi l'altra cosa, sempre a livello di progettazione generale, queste sono le strutture dati, a livello di algoritmo come procediamo? Allora fare la prima mossa è facile, ho una lista e da quella lista seleziono solo gli elementi che verificano una certa condizione. Poi nelle mosse successive però nella seconda mostra dovrò selezionare gli elementi che verificano due condizioni e nella terza mossa dovrò selezionare gli elementi che verificano tre condizioni. Allora se la dico così mi incasino un po' la vita, perché vuol dire che a un certo punto quando vado ad analizzare la lista dovrò ricordarmi tutte le condizioni che ho già letto, che devo già applicare e applicarle tutte. In questo caso però è molto più comodo ricordarsi i risultati intermedi, cosa che succede anche quando giochiamo col giochino di plastica, quando tu dici hai capelli rossi, sì, butti giù, elimini fisicamente dalla vista tutti quelli che non hanno i capelli rossi. Allora in questo caso noi possiamo pensare che l'elaborazione delle varie domande del gioco possa procedere per eliminazione. Anziché dire dopo la terza domanda analizzo la lista di tutti e 24 i personaggi e vedo quali sono quelli che verificano tutte e tre le condizioni, mi mantengo una lista, una copia dei personaggi dentro la quale metto solamente i personaggi che via via rispettano le condizioni e ogni volta questa lista si assottiglia e quindi dovrò ogni volta solo applicare l'ultima condizione alla lista che proviene dalle condizioni precedenti. quindi durante la partita partiamo da una lista che contiene tutti i personaggi e poi ad ogni mossa cancelliamo da questa lista gli elementi che non soddisfano la proprietà. adesso io qua dico cancelliamo da questa lista poi magari vuol dire che costruisco una nuova in cui quella non ci sia più, non so ancora come verrà a fare se modificare una struttura di dati oppure creare una nuova. Però l'idea è che questa lista via via dimagrisce. ok? Quindi ad ogni giro basta applicare una condizione sola e faccio dire. Di fatto non mi serve, per quello che dicevo prima, non mi serve ricordare tutte le condizioni perché le applico una per volta e sarà l'insieme dei personaggi che si riduce. ok. Allora, se condividiamo con questo approccio, che è anche poi tra l'altro quello appunto più vicino al gioco reale, possiamo prenderci un po' di pausa e poi dopo quando ritorniamo, belli freschi, passiamo al codice. vero, bene? Grazie.